C'è tutto, guarda fermetta. Io ho messo da parte una scatola lì, molto piccola, perché l'ho messa sotto vuoto, sono tutti rimproveri, che in 17 anni tu mi hai fatto, ma è piccolissima, l'ho messa sotto vuoto. Sotto vuoto abbiamo scelto. Iniziamo. E avendo visto un lavoro fatto da giovani, non solo per i giovani, ma con il cuore dei giovani e preparato da loro, cominciamo premiando i giovani. Voi sapete che da molti anni il Rotary ci avvicina nella nostra iniziativa, da qualche anno anche con il progetto Polio Plus, il che ci inorgoglisce ancora di più, con Isabella, ti dispiace. Di accomodarsi sul palco, grazie. Di accomodarsi sul palco con noi. Accompagnati dal vostro applauso naturalmente. Chiaro Papale, Domenico Apolloni, Maria Carla Di Paolo, Maria Giuseppina Gimma, e mi pare, sì, l'ho detto tutti. Allora, dopo tanti anni è lecito chiedere il senso di questa vostra collaborazione con il Festival. Grazie, saluto le autorità, saluto il pubblico, saluto le compagnie. Il Rotary è vicino ai giovani, noi abbiamo il progetto Nuove Generazioni e quindi è vicino al teatro che ci dà delle emozioni che nessun'altra arte può dare in modo così intenso. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, due parole anche sulla Polioplus. Il Polioplus ne parlerà Apolloni. Io posso parlare del Rotary Club di Viterbo, che visto che parliamo di arte, noi intanto ieri sera abbiamo fatto nascere il club per i ragazzi giovani, l'Interact, quindi il nostro club di Viterbo adesso è completo. C'è il Rotary, il Rotaract e l'Interact e poi, visto che parliamo di arte, noi quest'anno stiamo partendo con un progetto veramente notevole sull'arte, sulla catalogazione di tutti i beni culturali all'aperto, che verrà fatto con tutte le scuole. È un interclub e farà parte anche di questo interclub altri distretti, come quello del Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, quindi anche adesso si sta associando a noi e speriamo poi di avere successo per il giubileo, che come voi sapete ci sarà un giubileo speciale quest'anno per il Corpus Domini che inizierà a Borsiena il 6 gennaio e quindi speriamo, visto che parti anche da Viterbo, di avere successo. Grazie mille. Beh, io ormai sono un po' vecchio di questo palco e non posso che ringraziare veramente chi organizza il festival perché noi con l'Apoglio Plus, che è un programma che Rotary ha sposato da ormai tanti anni, ci sentiamo veramente vicini. Diciamo soltanto due cifre, nel 2007, esattamente in dicembre, sono passati cinque anni, i casi di nuova poliomerite, di nuovo attacco di polio nel mondo erano ancora qualche migliaio. Quest'anno siamo scesi a meno di 200. La sfida che abbiamo lanciato è quasi vinta, manca ancora pochissimo e proprio perché manca pochissimo i nostri rappresentanti del Rotary al Congresso delle Nazioni Unite in settembre scorso hanno lanciato sul tavolo altri 75 milioni di dollari perché con questi dovrebbe terminare questa piaga. Ecco, diciamo anche un'altra cosa che gli economisti hanno fatto quattro conti e qualora il pianeta fosse veramente dichiarato immune da questo morbo l'Organizzazione Mondiale della Sanità risparmierebbe 40 miliardi di dollari l'anno 40 miliardi da dedicare ad altre cose, ad altre lotte, ad altre malattie. Grazie a tutti. Io previsivamente volevo ringraziare sinceramente la Federazione Italiana Teatro Amatori nella figura soprattutto del Presidente Carmelo Pace perché è un abbinamento che ci porta avanti, è un abbinamento che il teatro diventa un veicolo essenziale per il progetto umanitario. Basta, tutto qua. Grazie. Mi diceva la signora che è anche il Presidente del Rotarino di Terco porto in tempo i saluti del nostro Presidente Generale Luigi Orsini che purtroppo oggi è impegnato quindi lo sostituisco. Spero degnamente. Grazie. Grazie. Grazie.